bentornati o miei scomunicati nel sacro di 17 games per un nuovo video il viaggio delle meraviglie arrivata la foresta oscura sul test serve la patch arriverà a brevissimo sull'official e arriverà per l'appunto il 20 quindi fra due giorni il viaggio delle meraviglie anche sull'official ci sono delle novità in realtà non c'è solo il viaggio delle meraviglie da vedere ma c'è anche un altro evento quindi prima di partire vi ricordo di iscrivervi al canale della campanellina per essere sempre aggiornati sugli usciti nuovi video twitch e instagram su twitch vado live con diversi giochi andate a metterci il follow se volete interagire con me facciamo anche le salmon di afkarena visto come è andata l'ultima volta che avevano detto la live delle salmon per fare le salmon ragazzi me le dovete chiedere meglio sarebbe su discord richiedetemi nei commenti il link ve lo passo e poi mi contattate in privato altrimenti mi commentate sotto a un video e io cerco sempre di guardarli tutti e mi fate sapere quando avete la possibilità di partecipare a una live e quanta roba avete e ci mettiamo d'accordo per indire una live di salmon su instagram invece posto aggiornamenti di twitch e poi aggiornamenti anche su afkarena sul mio account e le vostre salmon più salta pannocchiose quindi partiamo subito lasciato un pollicione up se il video vi piace ragazzi prima cosa da vedere prima di andare a vedere il viaggio delle meraviglie fondamentale è il nuovo evento abbiamo belinda belinda con la skin che fa vomitare però c'è chi piace e chi se la vuole fare quindi allora abbiamo un evento che si profila come un classico evento di quelli free to play con il farm in realtà non c'è niente da fare e a tutti gli effetti perché abbiamo o il negozio o lo scambia non abbiamo un posto dove fare roba eccetera allora se non mi sbaglio sì la skin è prendibile con 200 cuoricini poi ci sono diversi altri premi come vedete ci sono vari eroi belinda gwyneth sa figlia eiron ferrell sono tutti veroi top tier che convengono rispetto per esempio celestiali progetti di solito vi consiglio di comprare perché in questo caso ortos e zorrat sono personaggi che servono veramente tanto più avanti quindi in realtà sti gran cazzi al limone a prenderli poi tra l'altro credo che si debba scioppare proprio perché se facciamo scoprire più possiamo ottenerli dai forziari della ricerca quotidiana abbiamo 12 giorni di evento e sono 10 l'uno quindi sono 120 poi abbiamo 40 dal viaggio delle meraviglie poi dai premi africa che vanno random e io ne ho fatti sette ora poi ci sono due due cose ci sono anche ste perle perché c'è anche un altro un altro evento eccole qua i premi prestigiosi che dovrebbe essere come i fiori per l'evento di meira che te li regali e poi niente chi ne ha regalati di più se non mi sbaglio ottiene le varie cose che però insomma sono abbastanza imbarazzante quindi allora un'altra cosa importante un'altra novità che arriva è questa il labirinto del limbo non è più come prima che il labirinto faceva il daily labirinto l'evento del daily labirinto adesso tutte le rewards del labirinto arcano verranno raddoppiate anche tutti gli oggetti tranne l'equipaggiamento venduto dal viandante del labirinto saranno raddoppiati quindi tutto ciò che otteniamo finendo una roba se avete la fortuna di beccare un item mitico dovrebbe essere per due a regola non vi preoccupate per il discorso dello starburst perché con quello è un bonus percentuale quindi noi faremo la stessa identica quantità di token del labirinto come per quando li avevamo singoli perché se abbiamo un 45 per cento di bonus al di token del labirinto prenderemo per l'appunto comunque il 45 per cento però per due perché andiamo a moltiplicare ciò che viene prima della dell'attivazione della percentuale quindi non perdiamo niente adesso andiamo a vedere il viaggio delle meraviglie perché ci servirà per ottenere insomma 40 cuoricini che io ragazzi qui investirei esclusivamente sul forziere della scelta dell'emblema i personaggi che ci sono sono tanti ora ne cominciano ad essere veramente tanti tanti personaggi che si utilizzano tanti possibili combo ci servono le saia più 30 di diversi pg quindi fondamentale andiamo a prenderci questo forziere della scelta dell'emblema costa 50 io a occhio e croce credo che riusciremo a fare 200 cuoricini senza scioppare si può scioppare l'evento di un euro al giorno per un totale se ne da 8 per un totale 96 cuoricini quindi dovremmo andare vicini a prendere il personaggio celestiale pogeo però se riusciamo a prendere e fare 300 cuori sono sono sei bull di queste 120 forziere dell'emblema che non sono male però valutate voi insomma ma è anche da capirsi un po perché non si può farmare niente quindi è tutto un po dato dal caso delle half che reward andiamo alla foresta oscura foresta oscura ragazze che si profila come un viaggio delle meraviglie un po me tra virgolette perché abbiamo 10 scroll normali che fanno cagare un forziere della scelta dell'eroe con dentro tasi che ci piace rosalyn che ci piace per il mid late game shemira che ci piace solo per il mid game ma ve la sconsiglio perché si può farmare dal labirinto anche se in questo periodo con tutti questi dimensionali che arrivano il token del labirinto sono tutti fermi lì e poi abbiamo un wukong che uno potrebbe mettere da parte nel caso a un certo punto con diversi che ne ha può arrivare a far l'asceso per il pvp oppure un brutus che però brutus sta andando un po fuori meta quindi in realtà lo prenderei e non lo prenderei a livello di premi qua poi abbiamo altri 20 cuori quindi sono 60 ok e poi niente 20 emblemi di amplificanti 10 forzieri random poi 40 di quelli bianchi e un po di reward casuali quindi entriamo e andiamo a fare walkthrough che non è poco è abbastanza anche arzigogolato quindi potrebbe essere quel viaggio di meraviglia che ci darà qualche soddisfazione io ho solo dato un occhio quindi cominciamo come al solito skipperemo tutti i fight vedremo soltanto quali sono le relic diciamo che potrebbero fare più value a prendersi allora diamo un'occhiata velocissima giusto vediamo se riusciamo anche a ingrandire ecco qua ci sono questi aggegini questa valvola controlla tutti i blocchi rossi ed è capace di ruotarli ok quindi dovremo girarli in questo modo perché ci sono questi blocchettini rossi e blu e bisognerà capire bello arzigogolato cercheremo di fare il prima possibile il più velocemente possibile fight abbastanza semplice così per iniziare vediamo un po' quanti common ci sono ce ne sono diversi qui potremmo anche azzardare un frammento della forza per vedere che succede ok vediamo cosa succede a prendere questo portale dopo alcune ricerche abbiamo scoperto che le valvole affanculo lo si è sparito queste aree sono state infestate dal potere della morte chiamano deserti spettrali ok quindi mi sembra di capire che noi non possiamo passare attraverso questi passi però dobbiamo ma che cazzo ok si non ci possiamo entrare ci fa fermare qui andiamo a ricapire se io entro qui dentro mi manda qua giù però il nemice ditta a regola non dovrebbe essere ancora in grado di picchiarli si dovrebbe poter tornare indietro ok quindi sicuramente dovremmo ruotare questo se noi ruotiamo in questa maniera si sblocca il cristallo e noi possiamo passare attraverso ok quindi andiamo a farci un po' di fight tutta questa roba la liberiamo subito fight mi sembra a pelle che siano un pelo più tosti rispetto al solito questo è un bene però può darsi anche che sia perché essendo in mid game diciamo che non abbiamo ancora la team comp strutturata quantità tv di eziz appaccata infatti come vedete frammento della forza è col secondo se riusciamo a beccarne altri due potrebbe essere molto onesto fatto che ci sono così tanti common ecco qui siamo stati un po' sfortunati alla piacca più perde no perché scemila non ci fa combo con quello mira ok oh ci prendiamo una riduzione del periodo di cooldown ok allora siamo in grado di passare da questa parte qua abbiamo la possibilità di girare questo sono abbastanza sicuro che è at that moment dovremmo fare questo ruotare così e vediamo un po' ma qui non ci dovrebbe interessare più vediamo cosa succede qui ruota e si sblocca questa parte mi sembra molto complesso ragazzi questo qua non lo dobbiamo ancora sbloccarlo quando abbiamo sbloccato questa parte potremo andare di là quindi altri fight common vediamo se troviamo altre pietre altri frammenti della forza palo però questo ci piace vediamo un po' 24 ore allora qui possiamo abbassare la leva in modo da poter andare da questa parte e tirare io questa cosa la farei subito troviamo almeno il pensiero vediamo cosa va giù solo questo e si alza questo che però penso ci faccia ah 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 ok ci blocca da questa parte ma non so se possiamo se riusciamo già a batterlo vediamo un po' la potenza è abbastanza easy la stessa dei common ecco questo è un po' triste perché ok si prendiamo il raddoppio dovrebbe essere un pochino più complesso perlomeno almeno gli elite dovrebbero far paura ecco non sarebbe male però vabbè ci accontentiamo di questo allora ritiriamo la leva perché qua a quanto pare tanto abbiamo finito di fare quello che dovevamo fare tiriamo giù si riattiva questo porta questo faro della speranza un altro frammento top abbiamo preso anche il combinatore quindi vediamo velocementissimo che dava il critico ah il danno aumentato ok perfetto abbiamo un botto e da non più ora dovrebbe essere tutto molto più edge vediamo un po' il più siano il 16% degli hp di un eroe alleato potrebbe essere onesto per scemirare per tenerla sempre full se non mi sembra di vedere grosse difficoltà allora noi possiamo passare da questa parte e ruotando questo ruota i gialli quindi questo potrebbe essere buono c'è veramente diversa roba qua da fare avanziamo per gradi dai andiamo qua 10 secondi di fretta potrebbe essere molto onesto perché ci sono diversi personaggi del cazzo che ci abbassano l'energia inizialmente danno un po' di rompimento di scatole allora quindi mi viene qualche dubbio ragazzi dovremmo tornare sicuramente indietro per poter tenere tutto up ho paura che allora in realtà forse sopravvaluto un po' le cose addirittura si può ruotare in senso orario in senso anti-orario quindi questo mi serve in senso orario quindi da questa parte let's go non ci avevo proprio fatto caso a sta cosa ok si attivano tutti allora qui che succede che qua siamo questo deve rigirare due volte prima di arrivarci poi lì da dove lo giravamo il blu da qua se giriamo il blu lo deve andare da questa parte non si sblocca più questa parte qua vediamo proviamo ad andare avanti ragazzi picchiamo un po' di roba ancora carino è abbastanza complesso allora ancora per ora non dà delle grosse soddisfazioni però potrebbe sembra che si arrivi poi a un certo punto a una situazione un po' controversa proprio in generale come vedete abbiamo Nara che per esempio comunque ci abbassano l'energia o danno critico questo è quello che ci vuole facciamo a pushare sul serio altri danni molto bene ok dall'altra parte lo possiamo girare senza problemi vediamo osserviamo un po' secondo me c'è da fare un passaggio prima e poi passare da sopra con con il portale in realtà dovrebbe essere abbastanza semplice ottimo il corno vediamo un po' vediamo un po' intanto attiviamo questo e a regola dovremmo liberare un po' di roba no perché ancora esatto allora va fatto subito ragazzi va fatto subito deve ruotare questo così cioè sono specchiato così quindi in senso sempre orario basta una volta ruota in senso orario vediamo ragazzi se non vestiamo d'uniosa subito la regola dovrebbe funzionare in questa maniera poi noi passiamo dal portale a destra che abbiamo liberato prima fa che dobbiamo rigirare un'altra volta perché qua si è disattivato eccolo qua ora così si dovrebbe attivare tutto stare stata totalmente purificata ok di qua no invece why that vabbè credo che in realtà non ci interessi di liberare questa parte forse rimaneva bloccata a prescindere quindi noi ora per passare dobbiamo passare da questa parte quello che abbiamo liberato all'inizio quindi prima di entrare qui dentro riluotiamo questo controlliamo verso dove sempre in senso orario va bene quindi ci rilocchiamo perfetto dai non l'abbiamo wasteata qui si dovrebbe liberare anche questo faro eccolo qua rientriamo dentro e ora dobbiamo fare gli ultimi fight e poi andiamo verso il boss ci deve essere un bel più possiede il tuo nemico più danni gli arricchiamo ci piace ci volevano un po' di portatori però vabbè non credo che avremo problemi a livello di scaling siamo messi molto bene valore di difese schivata sti cazzi abbiamo già quello base prendiamo un po' di difesa per i frontliner anche se mi interessa non ci interessa quindi noi possiamo passare attraverso questa cosa non riattivatelo da qui ragazzi che se non ha fatto un danno vi tocca rifare tutto il giro rifare da zero diventa veramente complesso toran da sempre il suo porco fastidio bambola voodoo o un siphon soul eh spero che non lo so se è meglio questa quando si gioca a shemiran vabbè prendiamo la bambola voodoo che è più safe può darsi che anche quello faccia la sua porca differenza allora noi ora abbiamo sbloccato tutto qua credo che si debba passare prima a questa parte che il boss poi ce l'abbiamo in fondo da una noia sti fari danno di obono sembra veramente dei fari da stadio nel gioco let's give us what the fuck is there questo mi ha messo in difficoltà ragazzi abbastanza oh questo ci piace riusciamo un po' di danni alla nostra backline che è sempre un po' in fin di vita quantitativi appaccate di mare ferro veramente noiosi veramente noiosissimi che sfaldano la backline dei light beater in maniera anche abbastanza ignorante allora valore di difesa per i frontliner mi interessa il giusto poi c'è una moneta da perseveranza abbiamo l'onore di vedere anche daimon all'opera siamo riusciti a curare un po' di gente fa cadere massi sono amici colpiti dall'abilità di controllo di massa non abbiamo tantissima roba che faccia cicci prendiamo danno eccolo qua allora sblocchiamo il primo personale scroll e ora andiamo a picchiarci con il boss che vedendo lo scaling finale forse può romperci anche i coglioni in un certo senso facciamo così che non ci abbassa le cose ce lo guardiamo questo fight abbastanza ignobile ma no niente sarà più facile questo di tanti altri fight che tristezza che tristezza quindi prendiamo questo e la regola dovremmo aver finito ok vediamo un po' menu si ok l'abbiamo finito e questo è viaggio ai meravigli ragazzi fatemi sapere che ne pensate diciamo che sono un pochino deluso non ci sono le scroll dello stargazer cioè le carte dello stargazer c'è un po' poca robetta ecco però dai comunque questa cassa non è male dove cazzo questa cassa non è male ci sono alcuni pg che possono essere utili poi vabbè sì insomma vabbè dai concludiamo qua con questo video ragazzi che a questo punto non c'è altro da dire spero che vi sia piaciuto se si è lasciato un pollicione up noi ci vediamo in questi giorni cercherò di fare di aggiornare le top 5 dei vari ruoli così almeno vi chiarisco soprattutto per i nuovi chiarisco un pochino le idee su alcune situazioni e posizioni faremo anche diverse ne faremo faremo tutti i paragoni per ogni fase fondamentale del gioco almeno ci rendiamo conto anche insieme da qua di fare insieme le tier list appena avremo modo di provare Ezio e vari altri pg ci faremo anche un'idea in generale sul resto quindi concludiamo qua ragazzi io spero il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo prossimamente per un altro video